ok Silma ce l'abbiamo fatta ci siamo allora tre due uno due ci porti Silma dove ci porti? al santuario di Frassassi si 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 bella grande ah si vede c'è qualcuno di sotto? è arrivato Silma là beh comunque è pazzesco eh oi se questi qui l'hanno scolpetta tutto io chiarietta ragazzi guarda che spettacolo che bello faccio un giro intorno Silma che si è un giro intorno non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.